Anza, Roma, 14 dicembre, stiamo ricevendo centinaia di telefonate, messaggi, mail di donne e uomini arrabbiati e delusi per l'incredibile scelta di fidi proteggere stupratori e assassini. Per quanto ci riguarda, sospendiamo le nostre previste partecipazioni a tavoli e incontri con Fie Berlusconi finché non ci sarà un chiarimento ufficiale. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo il voto contrario di Finco. Giustizia al Senato all'iter veloce per la legge, molteniche e nega sconti di pena per reati gravissimi.